L'accordo è arrivato in estremis ieri sera. Il nome è quello di Guglielmo Epifani, che da oggi sarà, salvo colpi di scena, il quarto segretario politico del Partito Democratico, dopo Veltroni, Franceschini e Bersani. Epifani è risultato il più idoneo a condurre il PD verso la stagione congressuale, dice il comunicato dei saggi, che consegna all'Assemblea, che si apre tra poche ore, una scelta forte, anche se non completamente condivisa, visto che sul nome dell'ex segretario della CGL e attuale presidente della Commissione Attività Produttiva della Camera non c'è stata un'animità. Se oggi Epifani sarà eletto al vertice del PD, sarà il primo segretario a non venire né dal Partito Comunista né da quello cattolico, essendo cresciuto nelle file del PSI e poi della componente socialista della CGL. Segretario in realtà Epifani lo sarà solo per pochi mesi, fino al congresso di ottobre, poi cederà il passo, anche qui a meno di imprevedibili colpi di scena. Tra l'altro il suo era il nome sul quale aveva puntato Bersani, che giusto ieri aveva invitato tutti all'ottimismo, abbiate fiducia nel PD, non è così caotico come scrivete, diceva i giornalisti. In realtà un appello che faceva pugni con queste giornate, tra le peggiori del Partito Democratico, giocate tra veti incrociati, ultimatum e nomi bruciati. Da Roberto Speranza, capogruppo alla Camera, troppo giovane e non di esperienza, a Piero Fassino, sindaco di Torino, fino ad Anna Finocchiaro, autorevole ma di fresca nomina alla presidenza di una commissione di peso, quella Affari Costituzionali del Senato. Adesso la battaglia nel PD è aperta, il tutto in un clima di scontro, con i militanti di Occupai PD pronti a presidiare stamattina l'Assemblea del Partito. Laura Puppato ha già presentato il suo documento contro le larghe intese, Goffredo Pettini ha lanciato l'idea di un nuovo partito a sinistra, Serracchiani e Fassina, invitato a distendere i rinervi ed evitare rotture. Mentre Gianni Cooper lo dice, a ottobre mi candido segretario. Compito di Epifani sarà quello di tenere insieme le diverse anime e portarle fino al Congresso, che andava fatto subito, dice il governatore della Toscana, Enrico Rossi, altrimenti rischiamo che la gente ci prenda a calci. Grazie